Sirene russe, la Russia è molto protagonista, stavo pensando adesso, abbiamo parlato di Russia. Va di moda? Esatto, per Caracciolo in questo caso. Sì, da Rubin Kazan, perché c'è un'offerta molto importante, tra l'altro Caracciolo aveva avuto anche un'altra offerta della Dinamo Kiev e l'aveva rifiutata mandando su tutte le furie corioni, perché la Dinamo Kiev era disposta a spendere 6-7 milioni, la stessa cifra che ha offerto anche Rubin Kazan e 3 milioni di ingaggio al giocatore. Però Caracciolo, avendo rifiutato la Dinamo Kiev, è difficile che poi accetti il Rubin Kazan alle stesse cifre, magari rimandando su tutte le furie corioni. Ma non vuole che lui vuole rimanere in Italia? Sì, vorrebbe rimanere in Italia, o comunque non andare a giocare in Russia, in Ucraina, probabilmente in un campionato importante vuole rimanere Caracciolo, e quindi visto che ha diverse offerte anche dall'Italia, soprattutto quella del Bologna, preferirebbe rimanere in Italia. Senti, siccome ha visto inquadrato anche Diamanti, e si parla spesso in coppia, si parla di loro in chiave mercato, Diamanti invece? Così poi iniziamo anche un po' di raffica. Su Diamanti probabilmente la pista sia un po' raffreddata, perché sembrava che potessero arrivare tutti e due, Diamanti e Caracciolo per 6 milioni di euro. Invece il Bologna sta cercando di dividere le due operazioni, cioè far arrivare prima Caracciolo e poi su Diamanti verrà fatta eventualmente una seconda operazione. Però il giocatore piace assolutamente al Bologna a Bagni, quindi una cosa che si potrà concretizzare nei prossimi giorni.